E' evaso nuovamente dai domiciliari il 51enne arrestato già poche settimane fa mentre era al bar. I carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore lo hanno rintracciato a malesco ed arrestato nuovamente. Si era allontanato senza autorizzazione per l'ennesima volta dalla propria abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari. L'uomo era stato sottoposto alla misura restrittiva da qualche settimana per ben tre volte durante il controllo. I carabinieri della stazione di Santa Maria Maggiore non lo hanno trovato in all'appartamento. Conoscendo ormai le sue abitudini hanno iniziato a cercarlo nei locali. Infatti il 51enne che evidentemente non voleva rinunciare alla compagnia e al divertimento era andato di nuovo al bar vicino a casa. Lì lo hanno sorpreso i militari mentre beveva una birra. Riconosciuto e immediatamente bloccato è stato nuovamente arrestato. Il 51enne è stato poi riaccompagnato a casa. Ieri l'ha convalida in tribunale e il giudice lo ha rimandato ai domiciliari. dove lo hanno accompagnato i carabinieri.